E' da un po' che non registriamo una nuova puntata della nostra rubrica Book Club Storico Filosofico e oggi però lo facciamo con un classico della storiografia italiana degli ultimi 50 anni. Sto parlando del libro di Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Me lo sono letto da poco, sono qui per farvi una breve presentazione di questo libro che ha avuto un grandissimo successo negli anni 70, che ha suscitato anche critiche, polemiche, revisioni, dibattito nell'ambito della storia e che presenta un modo però particolare di fare storia e poi anche molto interessante per quello che racconta. Andiamo a cominciare. Non so se di caffè, nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare che fa sempre compagnia. Con me ci sono sempre puntuali, come ad ogni appuntamento, Topolino, Tostoi, Batman, De Andrè e là in fondo il mostro peloso, io mi chiamo Ermanno Ferretti. Sono un insegnante di storia e filosofia, insegno nel liceo scientifico di Lovigo e da un paio d'anni su questo canale realizzo delle video spiegazioni che generalmente seguono il programma di storia e di filosofia che si fa alle superiori ma si lanciano in approfondimenti, aggiustamenti, deragliamenti, tutte cose che finiscono in menti. Se date un'occhiata già alle descrizioni di questo video e poi al canale trovate link su tanti video, tante playlist, c'è un po' di tutto relativo comunque sempre alla storia e alla filosofia quindi se siete interessati a questi argomenti, se state studiando o anche solo siete curiosi, dateci un'occhiata. Oggi presentiamo un video all'interno della playlist, della rubrica che chiamiamo Book Club Storico Filosofico in cui a volte leggiamo anche interamente delle opere abbiamo letto Nice, abbiamo letto Epicuro, abbiamo letto Socrate, indirettamente ovviamente e però altre volte invece presentiamo dei libri, ne presentiamo un po' così la trama, diciamo comunque il tema principale e poi invitiamo alla lettura. In descrizione trovate la playlist completa se volete poi darvi un'occhiata a tutte le puntate precedenti che sono già parecchie. Oggi parliamo di un libro però in particolare, come vi dicevo nella premessa, che è un libro di storia italiano che si intitola Il formaggio e i vermi, un libro pubblicato per la prima volta nel 1976 a firma di Carlo Ginzburg, nome già importante, adesso diremo tra poco, storico che ha avuto un grande impatto in quegli anni, anni 70, anni 80, ancora oggi, anche se oggi è abbastanza anziano e soprattutto un libro che è interessante perché ci racconta, intanto apro una finestra emblematica sull'Italia, al nord Italia, di fine 500, XVI secolo, perché racconta la storia di un mugnaio friulano accusato di eresia e tramite i verbali degli interrogatori, della detenzione eccetera possiamo ricostruire almeno in parte le idee che albergavano nella mente di questo mugnaio e questo ci permette poi di capire cosa pensavano gli uomini di quel tempo, cosa leggevano gli uomini di quel tempo o come si relazionavano anche con la fede, la riforma che si stava diffondendo in centro-nord Europa e così via, quindi questo è già un aspetto importante, ma poi è interessante questo libro perché anche aprì un filone in Italia almeno, ma è un grande successo anche in Europa, anche all'estero venne tradotto, letto, studiato in Francia, in Germania, in Inghilterra eccetera un filone particolare del modo di fare storia, di storiografia, cioè il filone della cosiddetta microstoria cioè quel filone in cui gli storici non andavano, non vanno più a cercare tanto di raccontare la storia dei grandi uomini, dei sovrani o dell'economia, della società, cose peraltro importantissime ovviamente ma in questo caso si mettono a parte tutti questi fattori e si va a guardare la storia micro, appunto piccola di personaggi di secondo piano, quelli che normalmente considereremmo personaggi di secondo piano come il caso specifico di un mugnaio ad esempio, oppure di un pastore, oppure di altre persone di secondo o terzo ordine come vengono normalmente reputate, invisibili normalmente agli occhi della storia e grazie quando ci sono le occasioni e alcune fonti, perché bisogna avere ovviamente anche il materiale per poter fare la storia di questi personaggi, tramite alcune fonti documentali si riesce a ricostruire la vita le avventure o disavventure, il pensiero, il modo di essere di questi personaggi e quindi si fotografa solo una piccola vita, che conta forse poco o nulla nell'ambito degli grandi eventi in questo caso del Cinquecento, ma è una piccola vita che diventa esemplificativa diventa significativa per capire un periodo storico convinti che il piccolo possa aiutare a capire il grande senza per forza parlare sempre di grandi nomi perché a fare la storia non sono solo i grandi nomi, ma sono anche i piccoli nomi sono anche le persone, tra virgolette, invisibili ecco, l'intento di Ginsberg, ma più in generale di tutti i cultori di questa micro storia è quello di scegliere, anche avendo a disposizione però ovviamente delle fonti cosa che non è per nulla facile storie piccole da raccontare, analizzare, chiaramente poi collegare col metodo storico in modo che l'analisi di queste storie piccole aiuti però a comprendere meglio la storia più in grande, più in generale di una certa epoca intanto diciamo due cose su Carlo Ginsberg, l'autore di questo libro prima di entrare nelle vicende narrate nel suo saggio già il cognome di questo importante storico italiano vi dovrebbe accendere un campanello d'allarme perché il cognome Ginsberg non è un cognome qualsiasi infatti Carlo Ginsberg è figlio di Leone Ginsberg importante studioso russo, morto, ucciso dal fascismo durante gli anni del fascismo in Italia marito, Leone, suo padre di Natalia Ginsberg o meglio Natalia Levi in Ginsberg che è la madre quindi di Carlo Natalia Ginsberg è l'autore di cilessico familiare di altri libri di cui abbiamo anche parlato varie volte in descrizione vi metto un link quando l'ho citata tra i libri più belli che ho letto nei vari anni scorsi ecco Natalia Ginsberg grande autrice appartenente a essa stessa e la stessa ha una famiglia importante i Levi, suo padre di Natalia e nonno quindi di Carlo era un importante studioso di biologia imparentati con gli Olivetti insomma famiglia importante della Torino di inizio novecento famiglia di intellettuali ebrei in parte ebrei della Torino in inizio novecento Carlo è appunto figlio nato nel 39 di Natalia Ginsberg e di Leone suo padre Leone morì purtroppo molto presto sua madre invece ebbe una vita abbastanza lunga Carlo è uno dei figli Leone, uno dei fratelli Ginsberg che ebbero un grande successo anche dopo perché ebbero una carriera importante in diversi ambiti Carlo si dedicò alla storia studiò a Pisa la normale e poi chiaramente si iniziò a occupare di storia soprattutto storia moderna degli inizi dell'età moderna cioè storia del cinquecento inizialmente interessandosi soprattutto che è stato uno dei tratti importanti di tutta la sua carriera come storiografo della diffusione della riforma in certi ambienti italiani ma più che della riforma in sé cioè dell'uteranesimo o delle varie eresie di quell'epoca quindi calvinismo, anabattismo eccetera più che di quello interessandosi di come il cattolicesimo, le religioni riformate si mescolassero molto spesso a livello popolare con una cultura religiosa che sopravviveva da molto molto tempo una cultura religiosa antica soprattutto a forme di paganesimo, di culti misterici legati al mondo contadino e agrario la sua tesi portata avanti in molti libri era che certo gli uomini del cinquecento gli uomini delle campagne, dei villaggi di campagna del cinquecento conoscessero il cattolicesimo praticassero il cattolicesimo conoscessero a volte anche qualcosa dell'anabattismo del luteranesimo e così via e magari alcuni erano anche interessati a queste nove dottrine ma nel loro pensare, nel loro vivere, nel loro sentire religioso si mescolavano poi gli elementi invece provenienti da cose che sopravvivevano da secoli da prima ancora del cristianesimo ben più antiche, culti ben più radicati tra il popolo, magari trasmessi oralmente in maniera vaga, poi mescolati in strani miscugli questa è la tesi portata avanti già dal suo primo lavoro importante che si chiamava I benandanti un libro pubblicato nel 66 quindi ancora abbastanza giovane dedicato proprio alle campagne friulane si specializzò nello studiare le fonti d'archivio di quelle zone e poi proprio questo lavoro dopo vari altri saggi colminò appunto nel formaggio e vermi del 76 proprio ambientato come studi in quella stessa zona il friuli della seconda metà del 500 andando a vedere cosa pensavano cosa praticavano cosa sentivano in questo caso un uomo ma in generale gli uomini di quel tempo negli anni successivi si è dedicato ad altre opere però direi che I benandanti e il formaggio e i vermi sono sicuramente i due capolavori le due opere principali quelle che hanno avuto anche maggior successo a livello europeo che hanno influito poi sul modo di affrontare questa micro storia come vi dicevo all'inizio si è occupato poi anche di stregoneria sempre legandosi a questi culti del 500 si è occupato di vari temi anche poi di carattere più storiografico come si fa la storia come si può affidare le fonti forse altre opere importanti l'ultima si intitola La lettera uccide con una raccolta di saggi pubblicata da Delphi l'anno scorso poi c'è stato un saggio su Machiavelli si è occupato anche di Hobbes però insomma diciamo che le opere più importanti dal punto di vista storiografico sono queste opere di micro storia che hanno segnato l'inizio della sua carriera oggi ormai ripeto è del 39 quindi ha una certa età però ha insegnato a lungo in varie università del mondo anche in America però diciamo che ha fatto base soprattutto a Bologna per molto tempo l'università di Bologna dove i studi medievali e moderni erano particolarmente forti la storia a Bologna è sempre stata ha avuto una bella tradizione e poi in parte anche alla Normale di Pisa dove tra l'altro si era anche laureato questo per dire di Carlo Ginzburg ma di cosa parla il formaggio e i vermi? di cosa parla questo libro? è un titolo un po' strano il formaggio e i vermi ma in realtà adesso lo vedremo cosa significa questo titolo il libro ha un'analisi un'indagine sulle vicende biografiche e soprattutto sui processi che videro protagonista un mugnaio friulano della seconda metà del Cinquecento questo mugnaio si chiamava Domenico Scandella ma nel libro e in tutte le fonti e i documenti è molto più spesso ricordato col nomignolo di Menocchio abbreviazione di Domenico questo Menocchio nella seconda metà del Cinquecento venne due volte accusato di eresia e interrogato arrestato e processato dal Sant'Ufficio dall'Inquisizione perché? perché questo mugnaio che apparteneva alla piccolissima borghesia di campagna lavorava nei mulini affittava dei mulini e certo non se la passava malissimo ma certo non era neppure ricco questo mugnaio che viveva appunto nelle campagne friulane nelle montagne friulane delle parti di Monte Reale in un villaggio che aveva circa 600-650 abitanti all'epoca questo mugnaio ogni tanto raccontava ai suoi compaesani le sue idee su Dio sulla religione e queste idee su Dio sulla religione non erano affatto ortodosse non erano affatto in linea con le idee della Chiesa Cattolica cosa che da quello che si capisce anche dai processi sembra non essere così rara cioè che gente avesse così gente comune gente di campagna avesse idee un po' strane non era così infrequente però in genere queste idee strane le si teneva per sé al limite le si comunicava a pochissimi amici cari di cui ci si fidava raramente le si tentava di diffondere perché si sapeva bene che quando si tentavano di diffondere idee strane si poteva andare incontro a dei problemi Menocchio però per ben due volte subì un processo segno che non solo non aveva capito bene la cautela la prima volta ma non la capì neppure dopo la prima condanna che fu già abbastanza grave o meglio più che non la capì forse non seppe trattenersi la figura che emerge nella descrizione degli eventi nel resoconto anche dei processi di Menocchio una figura davvero interessantissima davvero interrogante perché questo Menocchio che sapeva malapena leggere e scrivere cosa che comunque per l'epoca ne faceva quasi un intellettuale verrebbe da dire perché pochissimi sapevano leggere quindi il fatto che lui sapeva leggere nel villaggio lo rendeva un personaggio di primo piano ma questo saper leggere l'aveva portato a leggere vari testi vari testi nonostante siamo agli inizi dell'età della stampa i testi i libri costano lui di per sé ne possedeva pochissimi se ne faceva molto spesso prestare ed era però un lettore pare abbastanza vorace soprattutto su questioni religiose su questioni filosofiche che lui poi rielaborava a modo suo ci metteva molto del suo e la tesi poi di Gimsburg fedele a quello che abbiamo già detto come sua tendenza come sua tesi generale storiografica è che queste sue idee che si mescolavano a quello che leggeva sui libri provenissero in realtà da riti ancestrali da culture popolari e contadine qua poi è difficile capirlo è stato anche criticato Gimsburg per questo suo voler insistere abbastanza spesso sui riti antichi eccetera certo pur alzio che ci sia anche una componente di questo tipo poi chiaramente dalle carte emerge soprattutto la fantasia di Menocchio non si sa bene non si riesce a capire da dove poi abbia potuto trarre completamente quelle opere quelle idee se fossero tutta farina del suo sacco oppure se e fino a che misura queste idee derivassero da culti preesistenti comunque l'idea che espone Menocchio anche durante il processo perché è anche un tipo che non ha timore di esprimersi sono interessanti perché permettono di capire come il 500 anche italiano fosse dal punto di vista spirituale un 500 frastagliato noi sappiamo sempre quando studiamo la riforma e poi la conseguente contro riforma che le idee di Lutero e poi di Calvino e poi di Zwingli e poi degli Anabattisti eccetera magari in descrizione vi metto qualche link storico per approfondire tutto quello che sto dicendo si diffusero soprattutto in certe zone d'Europa in Germania in Svizzera in Svezia in Inghilterra in certe modalità strane nei Paesi Bassi in qualche zona della Francia insomma proprio a macchia di lopardo in certe zone sì in altre per nulla in Italia ad esempio si sostiene spesso lo diciamo sempre quando presentiamo così in generale la riforma e l'epoca della riforma che le idee di Lutero non attecchirono non almeno a livello popolare perché la chiesa aveva un capillare controllo della situazione non permetteva di diffondersi di queste idee in effetti l'inquisizione lavorò a sprombattuto in quegli anni per impedire di diffondersi di queste idee poi era anche vero dicevamo sempre che alcune idee di riforma si erano diffuse magari tra i centri più elevati anche all'interno dello stesso cardinalato cattolico idee di riforma magari più orientate verso un lato morale che non dottrinale però insomma qualche idea nuova c'era però ecco a livello popolare le eresie non avevano avuto molto spago molto molto spazio infatti citiamo come vennero messi o in carcero a rogo personaggi come Tommaso Campanella come Giordano Bruno come Galileo Galilei e altri ancora tra 500 e 600 ecco Menocchio non lo si cita perché è un personaggio di secondo piano rispetto a Giordano Bruno e Galileo Giordano Bruno e Galileo erano due intellettuali che hanno segnato l'evoluzione del pensiero Menocchio lo sappiamo solo noi che abbiamo letto questo libro il suo nome è perso nel tempo eppure la vicenda di Menocchio che certo era uno che proveniva dalla campagna un semi-analfabete uno che aveva da poco imparato a scrivere nel senso che sapeva scrivere il minimo e che anche quando scrive dei memoriali per la corte che lo deve giudicare li infarcisce di errori ma nonostante questa sua scarsa cultura Menocchio ed è interessanti che richiamano per dire quelle di Giordano Bruno per certi versi che richiamano quelle di Montaigne filosofo francese contemporaneo che vive però a Bordeaux dall'altra parte d'Europa che richiamano idee magari anche della filosofia antica paradossalmente sembra in certi passi di leggere a Nassimandro metto in descrizione un link su Nassimandro e su Aperon su queste idee di un caos primordiale e per questo è interessante dove poteva cavare fuori idee del genere di un personaggio del Cinquecento poco istruito un mugnaio è la stessa domanda che si pone Ginzburg che in questo libro ci racconta le vicende di appunto Menocchio ma si chiede anche ma da dove gli venivano queste idee così strane così originali così divergenti rispetto alla dottrina cattolica ufficiale quali erano queste idee? Allora in primo luogo le prime idee che gli si contestano sono quelle su Dio nel senso che gli si dice ma c'è giunta l'inquisizione che lo interroga l'inquisitore gli dice c'è giunta voce che tu Menocchio non credi nel Dio cristiano cos'è Dio per te? E Menocchio inizia a raccontare senza pedi sulla lingua senza molte remore convinto di poter anche esporre la sua visione quasi come fosse in una diatriba filosofica finalmente qualcuno mi può ascoltare inizia a raccontare cos'è per lui Dio e Dio per lui è tutto è una visione panteistica quella che lui espone Dio è l'aria inizia a dire a un certo punto Dio è in tutte le cose noi tutti siamo Dio cose che per un mugnaio uno dice ma dove se le cava fuori questo mugnaio questo Menocchio questi delle diceva vero anche in parte il Giordano Bruno con qualche cautela ma il Giordano Bruno aveva studiato in grande università aveva insegnato in mezza Europa le avrebbe detto poco dopo forse in parte Spinoza certo ma Spinoza era un dotto vissuto in Olanda non era un mugnaio da dove se le può cavare fuori questa idea è un mugnaio che si ha letto bene o male se è stato libri e tanta roba e non ha mai potuto discutere con gente di pari livello gente interessata con intellettuali gli unici con cui poteva discutere erano i suoi compesani che erano contadini al massimo era il pievano del villaggio cioè il prete locale che comunque appena sente Menocchio dire queste cose lo va a denunciare al sant'uffizio capite c'è c'è il dubbio di come possono arrivargli queste idee non solo Menocchio tra l'altro le racconta voracemente perché finalmente dice posso parlare con qualcuno che mi capisce davanti degli uomini di lettere perché sono certo sacerdoti frati però istruiti quindi dice voi mi potete capire ho parlato per anni con gente del villaggio che non capisce niente adesso ho gente che mi può ascoltare che può capire quello che dico e quindi vi racconto come la vedo io è all'inizio almeno orgoglioso anche di raccontare la sua visione del mondo dice Dio è tutto intanto Dio è l'aria eccetera Gesù non è Dio è un imbroglio quello che la chiesa ci ha insegnato dice Menocchio che Gesù è Dio Gesù era un uomo che è morto un uomo se vogliamo saggio un buon esempio ma non era per nulla Dio se fosse stato Dio non si sarebbe fatto crocifiggere vi pare che Dio si faccia crocifiggere mi pare che Dio subisca le angherie le umiliazioni le violenze che ha subito Gesù Cristo è chiaro secondo Menocchio che Gesù non era Dio intanto era casomai un uomo virtuoso che ha insegnato buone cose ma non certo Dio il fatto di vederlo come Dio è un'invenzione della chiesa è un'invenzione degli evangelisti la chiesa si è inventata un sacco di cose per tenere sotto controllo la gente per controllarla per dire quello che vogliono anche i vangeli sono tutti inventati ne esistono anche altri qua c'è riferimento ai vangeli apocrifi che la chiesa ha scartato quindi la chiesa che ha scelto cosa tenerebbe per buono e cosa no ma così a suo piacimento secondo quello che a lei tornava utile perché la chiesa è un mezzo per gestire il potere per accumulare denari e per tenere gli uomini sotto controllo idee capite nel cinquecento in Italia rivoluzionari è vero che qualcuno le dice in Germania in Olanda ma Menocchio come fa a conoscere prima cosa e seconda cosa in Italia vai a dire queste cose le vai a dire agli inquisitori a parte che sei un po' pazzo per dire una roba del genere agli inquisitori ma capite che è originalissima questa situazione quindi Gesù non è Dio Dio è l'aria è il tutto quindi forse non c'è neppure la vita dopo la morte perché la visione di Menocchio anche se poi è molto contraddittoria in certi punti non è un sistema coerente quindi intanto lo stesso Menocchio si contraddice a volte sembra che l'anima esista a volte sembra che non esista a volte sembra che sia immortale a volte sembra che sia immortale non si capisce bene la coerenza interna del sistema ma la visione di Menocchio è una visione molto materialistica alla fine Dio nelle cose Dio è nella materia noi siamo materia e quindi l'anima probabilmente non c'è vita dopo la morte non sopravvive e l'insegnamento qual è? come dobbiamo vivere la religiosità? Dio vuole che ci vogliamo bene gli uni con gli altri che ci aiutiamo e basta i dogmi sono tutte invenzioni della chiesa e la trinità i sacramenti la messa tutte invenzioni bisogna semplicemente amare il prossimo questa è l'unica vera regola ed è l'unica cosa importante e tutto il resto sono fandoni inventate dei preti questo dice Menocchio sostanzialmente e poi c'è questa storia del formaggio dei vermi che torna nel titolo perché? perché gli inquisitori ovviamente a parte che sono stupefatti da queste tesi e vogliono saperne di più quindi lo incalzano ma raccontaci questo e quest'altro cosa pensi di questo e cosa pensi di quest'altro e poi a un certo punto gli chiedono anche ma come è stato creato il mondo allora se Dio è tutto se Dio è l'aria eccetera e allora Menocchio fa questo strano paragone perché molto spesso per far capire cosa pensa agli inquisitori usa dei paragoni tratti della vita contadina quotidiana dall'esperienza che aveva lui e che avevano anche i suoi compaesani segno che probabilmente queste stesse cose le diceva anche ai compaesani per farsi capire lui dice secondo me l'origine del mondo è simile a quello che accade quando si fa il formaggio all'inizio c'è il latte però un caos un disordinato una serie di grumi così era noi oggi diremmo il brodo primordiale il caos quello che ha un proprio caos originario c'era un insieme di elementi quindi la materia esisteva già non è stata creata da Dio la materia c'era già in questo miscuglio in questa brodaglia in questo latte a un certo punto si forma il formaggio come appunto quando si fa il formaggio si formano i grumi e si crea il formaggio e dentro il formaggio si fanno anche i vermi questo è quello che accade quando si fa il formaggio e la stessa cosa è accaduta nel mondo c'era questo miscuglio questo caos primordiale poi si è fatto il formaggio che è Dio la materia il mondo il tutto e dentro a questo formaggio i vermi che sono gli angeli le entità superiori e quindi anche poi tutto il creato capite la visione dell'origine del cosmo è una visione molto naturalistica perché è paragonabile a quella che avviene in natura quando si fa si fa il formaggio o si fa il vino o si fa qualcosa di naturale segno che non c'è una volontà divina dietro che non è un'entità superiore che vuole creare il mondo il mondo si fa da solo il mondo si fa spontaneamente come si fa il formaggio mescolando mettendo insieme lasciando lì facendo agili vermi eccetera e così anche si fa il mondo e tutte le creature non sono altro che prodotti in questo modo che nascono dentro in questo miscuglio in questo brodo da cui poi nascono le cose la visione originale strana ripeto emblematica è che quando la si legge uno rimane stupefatto ancora oggi di come questo mugnaio potesse dire queste cose pensare queste cose come se le era fatte queste idee beh Ginzburg fa tutta un'analisi porta tutta una serie di libri che furono trovati in possesso di Menocchio con lo stesso Menocchio disse di aver letto a Mise di aver letto che poi lui aveva capito fino ad un certo punto perché a volte aveva mescolato insieme le tesi di diversi libri di diversi testi alcuni erano testi di commento alla Bibbia altre volte erano testi effettivamente eretici o ereticali vicini all'eresia che davano la loro interpretazione originale della Bibbia e quindi magari testi in mezzi proibiti altre volte c'era di esempio anche il Decamerone di Boccaccio in mezzo che l'aveva influenzato e c'erano anche a volte resoconti di viaggi cioè aveva con sé testi in cui si raccontava la religione di altri popoli e questo l'aveva molto influenzato scoprire quello che credevano altri popoli in Europa ma anche al di fuori d'Europa in Asia pare addirittura anche se qui non c'è sicurezza anche Gisburgo non è sicuro del tutto che avesse letto forse anche una traduzione del Corano in italiano questo per Menocchio è fondamentale perché gli apre la mente gli fa pensare beh ma allora se i turchi la pensano in questa maniera e leggendo il Corano si vede che in fondo il paradiso vagheggiato dagli arabi dai musulmani non è così male ma Dio ha alcune caratteristiche simili al Dio cristiano ma anche altre diverse e se poi altri popoli crescono in altre divinità ancora allora forse c'è qualcosa che unifica tutte queste visioni religiose quindi Dio è unico ed è la natura alla fine ed è il mondo e tutte le religioni hanno ripreso alcuni elementi di verità sembra dire Menocchio dalla natura e poi le hanno codificati secondo tutta una serie di dogmi di riti di burocrazia di apparati che servono a mantenere il potere quindi c'è un nucleo centrale vero e poi tutta una serie di fandoni attorno l'idea sembra essere quella liberiamoci delle fandoni e teniamo il nucleo centrale di cose valide che poi è un nucleo panteista materialista istintivo di amore diretto per il prossimo senza costrutti teorici dietro senza grandi dottrine senza teologia questa è la tesi di Menocchio Menocchio viene appunto arrestato la prima volta lui racconta tutto subito ai giudici che lo schiaffano ovviamente in galera poi uno dei figli riesce a tovargli un avvocato gli dice papà guarda che non puoi andare a dire queste cose chiedi perdono chiedi di clemenza alla corte di che hai sbagliato tutto che era il demonio a influenzarti lui fa atto quando capisce che le cose vanno male che non può andare a dire queste cose ai rappresentanti dell'inquisizione fatto di pentimento di costruzione abbiura a tutte le sue dottrine si salva la vita perché viene condannato all'ergastolo non a morte perché almeno si è pentito ma all'ergastolo si fa qualche anno di prigione poi molto malato perché la prigione è molto dura e chiedendo perdono chiedendo davvero scrivendo varie suppliche alla fine finalmente riesce a impietosire il vescovo locale e l'inquisitore locale che decidono di rilasciarlo di farlo uscire di prigione convinti che abbia cambiato idea che abbia cambiato opinione che abbia capito con alcune limitazioni in realtà non viene proprio scarcerato viene messo a quelli che diremmo degli arresti domiciliari cioè confinato nel suo paesello di Monte Reale non può uscire dal paese anche se poi tra l'altro all'epoca si usciva raramente dai paesi quindi è confinato nel paese e deve portare sempre una veste che è segno del fatto che lui è stato condannato per eresia quindi tutti devono sapere che lui è una persona che è stata condannata per fortuna esce tra l'altro pare che poi un po' alla volta si rimette in sesto perché abbiamo notizie di mulini affittati insomma riesce anche a riacquisire parzialmente un certo ruolo nella comunità essendo uno dei pochi che sa leggere e scrivere ha un ruolo anche sociale nella comunità montana e quindi ad esempio deve amministrare la cappella eccetera ma dopo qualche anno fa anche domanda di poter smettere di stare confinato in città nel villaggio e di portare la veste perché per guadagnarsi da vivere visto che poi gli muore un figlio gli muore la moglie insomma le cose cambiano ha bisogno anche di racimolare soldi in altro modo lui suonava anche quindi andare in giro per le feste di paese a suonare è chiaro che se è confinato nel suo paese non può andare a suonare in giro quindi chiede il permesso di uscire dal paese visto che si è comportato bene fino a quel momento glielo concedono chiede anche il permesso di non mettere più la veste quello non glielo concedono però pare che poi a un certo punto lui se la nasconda non se la metta più eccetera però dopo qualche anno arrivano nuove denunce all'inizio le prime l'inquisizione lascia correre ma quando queste denunce si fanno un po' più gravi lo arrestano di nuovo lo processano come recidivo ma come ti avevamo detto di non professare più queste cose tu avevi detto che avevi sbagliato tutto che avevi capito che non avresti più detto queste cose adesso ti becchiamo che ancora vengiro a dire le tue idee strampalate su Dio sulla religione eccetera ma Menocchio ormai è abbastanza vecchio Menocchio gli è morta la moglie è morto il figlio prediletto sostanzialmente non gli importa più nulla nel senso che per qualche anno si tiene si trattiene dal dire le sue idee poi non ce la fa più perché lui vuole comunicare e questo è anche il tratto straordinario di quest'uomo così particolare un uomo poco istruito che però ha voglia di pensare con la sua testa anche a rischio di intanto anche di dire cose magari incoerenti perché a volte non pensiate che sia un vero filosofo nel senso che c'è qualche idea anche interessante originale filosofica ma mescolata ad altre cose più banali a contraddizioni eccetera per questo non è paragonabile voglio dire un Giordano Bruno per dirne uno ma al di là di questo al di là dei limiti ovviamente che poteva avere c'è la voglia di pensare con la propria testa e non accettare di doversi mettere buono ad obbedire e basta lui ci ha provato anche a obbedire alla chiesa e dire ok vabbè mi rimetto a quello che la chiesa mi dice e farò quello che la chiesa mi dice ma non ce la fa non ce la fa finché ha una moglie e un figlio che possono avere i guai per causa sua perché poi quando lui è in prigione chi fa andare avanti il mulino chi fa andare avanti la famiglia bisogna che qualcuno lavori quindi bisogna badare anche loro ma quando la moglie muore il figlio per il letto muore gli altri figli ormai non vogliono neanche più vederlo perché appunto ha creato guai con queste sue idee Menocchio non ha più nulla la perdere quindi a un certo punto lui si lascia andare si lascia andare nel senso che si mette a dire quello che pensa di nuovo un po' a tutti l'inquisizione lo arresta stavolta non chiede clemenza ormai dice quello che pensa e va a rogo e finisce così tra il 1599 e forse il 1600 stesso periodo in cui viene messo a rogo Giordano Bruno a Roma anche Menocchio viene mandato a rogo muore questo personaggio così originale così interessante com'è questo libro è bello e interessante altro che sia bello e interessante penso spero di averne dato un po' conto anche con questa breve descrizione dell'opera perché è una figura interessante una figura che ci permette poi di collegarsi a quello che anche gente di livello medio basso poteva leggere nell'Europa e nell'Italia del 1500 è quello poi che poteva pensare certo Menocchio originale ma come vedrete leggendo il libro Giesburg poi lo paragona ad altri personaggi simili vissuti nell'Italia del tempo non solo in Italia e cerca di collegare il pensiero di Menocchio ad altri personaggi comparsi qua e là e poi cerca di capire anche come il villaggio accoglieva Menocchio cosa pensava di quello che diceva insomma si cerca di fare la storia non solo di Menocchio in sé ma di un ambiente di un'epoca di una situazione quindi interessante sì ben scritto non facilissimo un testo di livello universitario però con un grande apparato di note di commenti una lunga prefazione che però è interessante anche questa dal punto di vista metodologico soprattutto quindi un libro consigliatissimo a chiunque si interessi di storia a livello universitario e poi comunque appunto per le vicende anche se siete solo appassionati cultori della materia forse un'occhiata se la darei è pubblicato da Delphi adesso in origine da in Audi vi leggo come faccio spesso a un tempo del book club l'inizio giusto per darvi un'idea del tono in realtà vi leggerò un pezzettino della prefazione perché è interessante appunto come metodologia e poi la prima pagina sostanzialmente del saggio vero e proprio la prefazione dice così 1 in passato si potevano accusare gli storici di voler conoscere soltanto le gesta dei re oggi certo non è più così sempre più essi si volgono verso ciò che i loro predecessori avevano taciuto scartato o semplicemente ignorato chi costruì Tebe delle sette porte chiedeva già il lettore operaio di Brecht le fonti non ci dicono niente di quegli anonimi muratori ma la domanda conserva tutto il suo peso questo è l'inizio della prefazione che è interessante perché sta dicendo basta parlare di re parliamo delle persone nascoste delle persone ignote delle persone di cui non si parla mai come la citazione di Brecht diceva chi costruì Tebe delle sette porte chi erano i muratori ci raccontate di re ma chi era la gente che stava dietro ed è in formaggio di verme l'intentativo di rispondere a questa domanda adesso vediamo anche l'inizio del saggio vero e proprio uno si chiamava Domenico Scandella detto Menocchio era nato nel 1532 al tempo del primo processo dichiarò di avere 52 anni a Monte Reale un piccolo paese di collina del Friuli 25 chilometri a norte di Pordenone proprio a ridosso delle montagne qui era sempre vissuto tranne due anni di bando in seguito a una rissa tra le 1564 e 1565 trascorsi ad Arba un villaggio poco lontano e in una località imprecisata della Carnia era sposato e aveva sette figli altri quattro erano morti al canonico Giambattista Amaro vicario generale degli inquisitori di Aquilei e Concordia dichiarò che la sua attività era di monaro marangon segar farmuro ed altre cose ma prevalentemente faceva il mugnaio portava anche l'abito tradizionale dei mugnai una veste un mantello e un berretto di lana bianca così vestito di bianco si presentò al processo un paio d'anni dopo disse agli inquisitori di essere poverissimo non ho altro che due mollini affitto e due campi a livello et con questi ho sostentato et sostento la mia povera famiglia quando sono ivergolettati ovviamente è il linguaggio del cinquecento ma certo esagerava anche se una buona parte dei raccolti sarà servita a pagare oltre al canone gravante sui fondi l'affitto verosimilmente in natura dei due mulini ne doveva restare abbastanza per tirare avanti e eventualmente cavarsi l'impazzo nei momenti difficili così allorché si era trovato a Arba bandito aveva subito affittato un altro mulino quando sua figlia Giovanna si sposò Menocchio era morto all'incirca un mese prima ricevette una dote pari a 256 lire e 9 soldi non ricca ma nemmeno troppo misera rispetto alle consuetudini della zona negli stessi anni e poi prosegue qui vi fa un po' inizialmente la panoramica di chi è Menocchio di che mestiere fa di quanto guadagna e poi inizia cosa legge cosa pensa il processo e tutto il resto questo è il formaggio ai vermi di Carlo Ginzburg perché leggerlo perché ci permette di capire che cos'è la microstoria perché lo vediamo in essere lì un genere di storia che ha avuto un grande successo oggi forse meno di quanto ne avesse negli anni 70-80 ma comunque interessante B perché ci permette di capire un'epoca C perché è bello interessante anche ben scritto devo dire poi ripeto non è forse esente da qualsiasi critica nel senso che anche secondo me Ginzburg forse calca un po' troppo la mano sull'aspetto tradizionale di questi culti agrari che poi non emergono così tanto dalle fonti nel senso che emergono anche altre cose però chiaramente dà la sua lettura la sua interpretazione ma mette anche in chiaro quali sono le fonti cosa emerge nel processo eccetera quindi è comunque un contesto molto interessante sicuramente uno dei più bei libri di storia italiani degli ultimi decenni lo trovate pubblicato da Delphi anche se generalmente era stato pubblicato da Inaudi quindi se magari andate in qualche mercatino dell'usato lo trovate pubblicato da Inaudi l'edizione più recente invece è marcata a Delphi che pubblica tutte le opere di Carlo Ginzburg tutto il catalogo che lo costi sui 24 euro attualmente in cartaceo ma vi metto in descrizione a questo video anche il link per comprarlo se volete basta leggetelo provatelo poi se l'avete già letto potete anche se volete nelle descrizioni nei commenti scusate di questo video lasciare la vostra opinione il vostro consiglio in questo caso posso dire che non c'è bisogno di non dire lo spoiler perché l'ho già fatto io lo spoiler ma non è questione di spoiler che il destino di Melocchio è molto chiaro fin dall'inizio del libro è interessante vedere come ci si arriva e cosa è accaduto perché è una storia vera ovviamente e che legami ha con la storia grande più ampia del 500 basta ho finito in descrizione trovate anche i titoletti che sono comparci qui per ascoltarvi un pezzo di questo video trovate i link agli altri video che ho citato mentre spiegavo e trovate il link per comprare il libro il link alle playlist principali anche la playlist book club storico filosofico e poi il link alla newsletter settimanale e social network se volete rimanere informati gratuitamente su quello che facciamo in più se vi piace quello che faccio se volete sostenersi darci una mano ci sono anche i modi per aiutare il canale con donazioni con acquisto di libri come questo come altri con acquisto di videocorsi molto interessanti molto utili a molto poco prezzo che aiutano voi a imparare a fare delle cose aiutano noi a fare i nostri progetti e in più c'è anche se volete l'ultimo modo che è quello di comprare il merchandising nel canale basta ho finito ci vediamo presto per altri video della serie book club ma poi anche più in generale di storia filosofia ed educazione civica ciao alla prossima